Io sono molto ammirata di questa organizzazione che tutti gli anni con grande sorpresa Sergio ci riserva. Ogni volta poi è più bella, quest'anno addirittura queste uova sono opere d'arte, sculture e io penso che fa molto piacere perché chi è che non deve fare un dono a Natale e approfittare di questo momento e poi unisce anche una cosa buona e meritevole perché oggi qualsiasi cosa bisogna pensare anche alla solidarietà. L'esempio di Sergio è un esempio straordinario perché con la sua generosità e poi anche con il suo senso della bellezza perché lui ha sempre generato bellezza e glielo posso dire perché ho lavorato con lui tanti anni nella moda e lui ha fatto sempre delle acconciature straordinarie disegnate dal nostro grande maestro Karl Lager. Allora questa è la quindicesima edizione dell'arte del nuovo di Pasqua. Ci sono 40 artisti che amici e non amici ma che generosamente donano la loro opera che è il tema è l'uovo di Pasqua. Perciò praticamente ogni anno scegliamo un'associazione. Quest'anno abbiamo scelto appunto Emergenza Sorrisi per salvare questi bambini da un destino terribile. Noi siamo qui, ci siamo stati accolti in questo bellissimo ciclo. Io confido sempre in Anna Fendi perché la posso considerare una mia sorella al di là che so che mi vuole molto bene e fa tutte le cose con il suo grande cuore.